Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata con Alex Cicon, siamo qui con anche Manlio Gasparotto e Vittoria Martinetto che traduce. Mi sento in emozione, devo dire, perché Alex rappresenta l'eccellenza dell'alpinismo, in particolare imalaiano e in particolare dell'inverno, quindi una stagione estrema che porta l'essere umano a misurarsi con tutto ciò che c'è di sovrumano praticamente. Ed è anche la montagna più vera oggi, però, perché l'Himalaya, come sapete, il Karakorum, cioè tutte le grandi montagne del pianeta, oggi sono teatro di un tipo di alpinismo che Reinhold Messner ha definito l'alpinismo di pista ed è diventato l'ambiente che fino a pochi anni fa, qualche decennio fa, diciamo, era un mondo altro che ci consentiva veramente di metterci in, di andare alla scoperta dell'ignoto, di compiere delle vere esplorazioni. Oggi non è più così, è come se una parte della nostra società di pianura si fosse trasferita lì. Quindi l'inverno rimane qualcosa di incredibilmente selvaggio ancora e molto molto duro, che richiede forza, resilienza, tenuta psichica. Quindi è vero che noi questa sera siamo qui per parlare del libro di Alex sulle sue tre spedizioni al Manaslu, con un'ultima salita vittoriosa, ma anche per spaziare su questa esperienza che, nonostante la sua giovane età, è già un'esperienza di più di vent'anni, perché è iniziato molto presto. Maglio, non so se vuoi già subito dire qualcosa, io volevo partire con una domanda a bomba, cioè che cos'è che la molla che ti ha spinto, cos'è che ti ha spinto ad andare verso questo, cioè a scegliere questo tipo di alpinismo. Buonasera a tutti, scusami perché l'italiano non è buono, grazie a questa qui Vittoria, che va a fare un grandissimo lavoro. Oggi solo voglio parlare adesso in italiano e poi prefiro parlare in spagnolo e Vittoria va a fare un fantastico lavoro. Oggi sono specialmente contento per la presentazione di questo libro, solo ho parole di ringrazio, qui in prima fila è Giovanna Cantone, editora e la persona che ha confiato in me. Grazie Giovanna con tutto il mio cuore, grazie per la montagna nuda e per te siamo tutti qui. Ricordare a nostro compagnolo Simone Moro e anche a Dalì Nardi, grazie a tutti, grazie a tutti per questa ora che passiamo qui. Perché facciamo questo tipo di alpinismo? Il alpinismo che mi piace non è un alpinismo, non è un himalaiismo che ho un obiettivo di escalar una montagna, non è un alpinismo che vuoi buscando la fama, il riconoscimento. Nostras expediciones nacen cuando sentimos mariposas en el estomago, como cuando te gusta una chica o un chico, no cuando me monto en un avión. Allora, il tipo di alpinismo che io faccio, che mi piace, non è l'himalaiismo, cioè l'obiettivo non è la fama, diventare famosi, ma fare queste spedizioni quando cominci a sentire le farfalle nello stomaco, come quando ti piace una ragazza. Sì, è chiaro. Abbiamo venuto a parlare del libro, ma mi viene un esempio, in quince giorni partiamo nuovamente per la Napurna. Quando arrivo alla cumbre del Manaslu, arriviamo al campo base, che è la vera della cumbre, io mi sento vacío, perché durante tutti questi anni, abbiamo stato facendo differenti tentativi, differenti intenti, e non c'è nessun èxito alguno. Llego di volta a España, ritorno per Pakistà, e quando sto andando, caminando a 4.000 metri, è qualcosa di irracionale, è qualcosa di la intuizione, di qui. A Napurna, no sale di qui, sale di qui, è come un flashazzo. sono in queste mariposas, quindi è qualcosa di indescrittibile, qualcosa di irrazionale. Allora, tutte le volte che abbiamo fatto tanti tentativi, quando dovevo scalare il Manaslu, tentativi senza successo, e poi tornavo in Spagna, e sentivo che mi mancava qualcosa, era qualcosa di irrazionale, dovevo tornare in Pakistan, e di nuovo la Napurna, e quindi di nuovo questa voglia di riprovarci. Si no, sientes la motivazione, sientes la inspirazione. Io sempre lo dico, non sono una persona filosofica, che la montagna ti parla, la montagna ti parla, no, 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 la montagna non ti parla, non existe la morte dolce, io credo che questo è un concepto literario. Io le persone che ho visto morire in la montagna, la ultima persona che ho visto cercana a me, Alisa Tpara, il suo rostro congelato, mi irò alla tumba con tutti i rostri che ho visto a tutti i giorni di oggi. non esiste esa morte dolce, come si narra in la letteratura di montagna. Per me l'ispirazione che io ho a andare in montagna non è filosofica, io non parlo di filosofia, e non parlo di filosofia perché non esiste quello che è la letteratura, il concetto letterario di morte dolce. Io ho visto i volti delle persone che sono morte, e credo che li porterò questo ricordo fino alla tomba, perché non è una morte dolce, anzi il contrario. Nel libro, sin dalle prime pagine, uno dei concetti che entra subito nel libro è la paura. La paura intesa forse come una compagna, è come un limite da avvicinare in qualche maniera. Cioè tu dici che a un certo punto con la paura hai fatto i conti e riesci a gestirla, però appare sempre il momento in cui sembra quasi troppa. Nel libro che cosa dobbiamo trovare per superare la paura? Voglio mostrare una fotografia adesso che descrive il momento della paura, qui. Questa fotografia è del 4 di gennaio, 4 di enero, e giusto in questo punto, qui, ritorna a campo base, è Simone Moro, non si senti bene del estomago, sono le 4 di la tarda, le 4 e mezza, il termometro sono 20-25 gradi bajo cero. Questo è tutto yaccio, tutto hielo, una struttura che sta in movimento. Quando ti adentras qui, senza un metro di corda fissa, il yaccio, va vedere come si va fissurando, come si va agritando, come si va explotando, come si va sonando. il èxito, il èxito, uno di èxito, perdon, del perché abbiamo escalato il Manaslu, ha sido la gestione 4 gennaio, e c'era con me Simone Moro, erano le 4 e mezza del pomeriggio, erano 25 gradi sotto zero, c'era un ghiaccio che noi sentivamo quasi scoppiare sotto di noi. Se io vi dico che non ho paura in una situazione del genere, sto mentendo. In realtà la paura c'è, però in 20 anni di esperienza ho imparato a gestire la paura, questo è il successo. Il successo per me, avere successo in una scalata di questo tipo, è aver imparato a gestire la paura. La clave è fondamentale il controllo delle tue emozioni. In ese momento, anche passi un momento di stress máximo, dove Simone torna, e io mi sento uerfano, mi sento solo, a pesar di che ho con i miei compagniari. Mi entra il miedo, però tiensi che vencer a tuo miedo. Quando il miedo se descontrola, tu non fluies, non escalas con precisione, non eres efficiente, empiezan le imperfezioni, deixas di essere... Più pericoloso del ghiaccio. Sì, 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 e eras inesatto, quindi è importante controllare tutto questo, però ha sido fondamentale. Allora, e appunto, ripeto, il controllo delle emozioni è fondamentale. In quell'occasione, Simone era tornato al campo base, io mi sono ritrovato solo, ed è in quel momento, potevo finire in preda alla paura, ed è stato lì che ho dovuto, appunto, controllarlo, perché la paura ti manda fuori controllo, e finisci per fare dei gesti, non esatti, e invece tu devi fare le cose, in modo esatto, per riuscire a muoverti. Il punto in cui descrivi il ritorno di Simone è molto toccante, perché c'è anche la descrizione dello stesso Simone, che quasi sembra che, no, non sapere che decisione prendere, scendo, non scendo, tu lo guardi dall'alto, cioè c'è veramente un coinvolgimento, una tensione molto forte. E un momento triste, anche perché Simone, a mí me hacía speciale ilusione che Simone a Riviera e Inbetta llegaria a esa cumbre, tanto lo ha peleato, creo che era la quinta tentativa, se non mi equivoco, per il Manaslu, con quattro primeras ascensioni invernali, lo ha peleato, già tiene un pochino di più di edad che noi, mi hubiera fatto molta, molta ilusione, e soprattutto, tener a Simone al lado è tener un salvoconducto, se algo tiene Simone, è un muy, muy, muy buen estratega en la montaña, muy bueno. Io ero un po' triste, perché in effetti, mi faceva piacere avere accanto Simone, e soprattutto sapevo che lui aveva provato già il Manaslu d'inverno quattro volte, quella sarebbe stata il quinto tentativo, e ci tenevo che fosse vicino a me, lui è un po' più vecchio di noi, però averlo accanto a me, era un po', cioè avere, mi dava forza, perché comunque è una persona che ha molta esperienza. e le sto molto grazie a Simone, Simone torna qui, a 6.100 metri, partiamo del campo base a le 8 di la mattina, arriviamo in 3 ore qui, a 5.800 metri, e altre 3 ore più o meno qui. Parece un terreno facile, però è un terreno molto complicato. Qui ci sono un po' 800 metri di corda, si equiparon, si fijò la corda, 800 metri, e grazie a Simone, también escalamos il Manaslu, perché lui arriesgò la sua vita descendendo solo da qui fino al campo base. Allora, lì dove vi ho indicato prima, erano 6.100 metri, il campo base, eravamo nel campo base alle 8 del mattino, e in 3 ore eravamo arrivati a 5.800 metri, ed era un terreno molto complicato, avevamo fatto 800 metri di corda, e grazie a Simone, appunto, che insomma, eravamo riusciti ad arrivare fin lì, e quindi il fatto che lui tornasse indietro, forse ne ho perso un pezzo. Sì, e il retorno solo, arrischiando la sua vita. Sì, che ha rischiato la sua vita a tornare giù da solo. Solo, non si sentiva bene. In la montagna, se subimos un equipo di persone, non si può non si può deixar una persona sola in la montagna, non si può. E io ho parlato con Chapa al Simone, che bai, che bai, che bai. Parlavamo entre noi e cada 15 minuti contactavamo con Walkie. Il riscò tantissimo per baixare solo. Non si può una persona deixar sola in la montagna. e io le sto tremendamente agradecido per questo gesto valeroso per la sua parte. Sì, è stato molto coraggioso, perché una persona non può, assolutamente, non deve essere da solo in montagna. Infatti, quando lui ha cominciato a scendere, siamo ogni pochissimo, cercavamo di essere in contatto con lui, con il walkie-talkie, perché aveva fatto questo gesto di muoversi da solo. Volevo fare un passo indietro e soltanto inquadrarvi che cos'è questa montagna. il Manaslu è l'ottava montagna più alta tra i vari colossi malayani, 8163 metri, ed è stata conosciuta per lungo tempo come la montagna dei giapponesi, perché fu salita dai giapponesi per la prima volta nel 1956 e poi anche il primo tentativo invernale fu portato da un giapponese nell'82, fin tanto che poi lo squadrone polacco, perché i polacchi sono, è la nazionalità che ha espresso i più forti alpinisti d'inverno, nell'84 sono riusciti a salire per la prima volta in inverno, poi sono stati fatti altri tentativi. Mi chiedevo perché avete scelto il Manaslu? Construiamo il futuro mirando al passato e avanziamo e evoluzioniamo di nostri errori e io quando mai aprendo aprendo di miei errori qual fu un errore fondamentale tras il Nanga Parvat proiecti demasiado ambicioso come escalar intentar escalar il Everest tre tentativi al Everest una tentativa ma al K2 e quando fui consciente di che stavamo equivocando Simone aveva intentato con Tamara Lunger il Manaslu vamonos al Manaslu io penso che si costruisca il futuro guardando al passato e che si impara molto dagli errori io ho imparato molto dagli errori ho perso hai detto una montagna prima in cui avevi tentato prima dell'Everest il K2 e l'Everest tre tentativi all'Everest e una al K2 avete fatto appunto l'ha detto tre tentativi all'Everest una al K2 e quindi insomma eravamo consapevoli degli errori che avevamo fatto ma sulla base di quegli errori abbiamo detto andiamo a provare il Manaslu dopo che uno ha visto le cose siamo tutti bravi come ho ha comentato il Manaslu montagna di los japonesi questa è la beta del Manaslu il 7000 più alto del mondo 7900 o 36 metri e i nostri due primi tempi il campo base sta qui e in questa tercera tentativa al Manaslu chevamo senza pressione senza pressione perché già sabemos che non abbiamo quasi nessuna opportunità montavamo il campo base qui desde l'anno 56 desde gli japonesi nessuno ha montato il campo base a 3500 metri questo anno si lo hicimos in questo bello lugar era il nostro terzo tentativo non avevamo pressione perché sapevamo che non avevamo nessuna opportunità di farcela dopo i giapponesi nessuno era arrivato a mettere il campo base dove invece poi siamo riusciti a metterla a 3500 metri in questo l'uva bello questo è il dì di notte buona qui si dice la natale il dì di notte buona 24 in questa fotografia questo è il 25 di dicembre partiamo di la tercera vez che vedo un leopardo di leopardo è la tercera vez un tar del Himalaya anche anche la blue ship una cabra montezza ese fu nostro regalo ese è il vero premio della montagna escalare rampicare trece cumbres di 8.000 metri due in 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 e io ho adesso 41 anni sono numerosi solo numerosi ma carecen di valor alguno tutti questi momenti esi detali mágici sono que di davvero hanno valor esa è la esenza del montagnismo del alpinismo para mi come alpinista il ser alpinista è una excusa per viajar per il mondo star oggi qui orgulloso di presentare il libro qui in Torino in una ciudad maravillosa in questo sitio tan hermoso estoy muy contento a pesar de che vengo de Budapest e apenas he dormito una ora sembra che tutti capiscano quella foto era tra il 24 e il 25 di dicembre quindi natale la cosa emozionante in quell'occasione era la terza volta che vedevo un leopardo delle nevi e anche questa questa blue sheep no una capra blu e poi il tar dell'Himalaya il tar è come bovino e cabra ah si vabbè una capra mista a bovino non ho capito che animale può essere comunque il tar dell'Himalaya potete ponere in google tar dell'Himalaya te lo vedete la foto però la cosa importante è che appunto vedere queste cose così eccezionali cioè io ho scalato in vent'anni 13 cime sono arrivato a 8000 metri d'inverno eccetera ma i dettagli magici dell'alpinismo sono questi questi incontri e anche diciamo per me l'alpinismo è un pretesto per girare il mondo per essere anche qui stasera in questo bellissimo posto e sono felice di esserci anche se appunto ieri ero a Budapest e praticamente ho dormito un'ora per essere qua il Manaslu è una montagna mágica anche per gli abitanti che rondeano questa montagna questa montagna è situata nel valle di Nubri a 7 km del Tibet di China sus habitanti non parlano nel nepalese parlano in tibetano esi habitanti entran in questi valli buscando la vita più favorabile per loro hace 800 850 anni solo hablan tibetano ancora mantiene sus costumbres su esenza hay un templo budista una gompa che sta come hace 850 anni lo che ha fatto grande ha facilitato che scaliamo il Manaslu anche questo anno sono gli abitanti del pollo che hanno accedito a che montiamo il campo base in questo luogo grazie a loro grazie a loro se les deve tutto il 99,9% delle persone che si hanno conoscato in mia vita ha sido per aiutare per regalare una sonrisa si tengo adesso si si allora il il Manaslu è una è una montagna magica è magica soprattutto per gli abitanti per le persone che ci sono e si trova a 7 km dal Tibet e queste popolazioni non parlano cinese parlano tibetano e vivono lì e cercano si spostano in queste valli cercando la vita più favorevole per loro e stanno lì e hanno per esempio c'è un hanno mantenuto i loro costumi la loro essenza c'è addirittura un un tempio buddista che vecchio 850 anni e proprio grazie a questi abitanti ho potuto fare anche muovermi da quelle parti perché loro ci hanno permesso per esempio di costruire il campo base cioè ci hanno dato aiuto questa gente è fantastica e mi ha mi ha accolto sempre con grandissima l'ultima era che io sono un uomo felice perché ho incontrato questo tipo di persone affortunato fortunato sì una anécdota di oggi quando ho arrivato qui ho ho tratato di parlare in italiano oggi ho partito di Milano Budapest Milano Porta Garibaldi Garibaldi qui a Torino salgo di la stazione del tren con il Google Maps in via Giovanna la ubicazione del Apergo un anno e medio fa grazie a Anna Ferrino e tutto il equipo di Ferrino uno dei miei grandi sponsor organiziamo una serata qui in Torino ho conosciuto una persona che sta qui e io voy caminando e una persona in la macchina alle sale e non è possibile si è arrivato e mi ha portato in l'hotel questo è la grazia la magia della vita questo è la cosa di portarti bene è grazie è così nella vita se ti comporti bene ti succedono questi incontri straordinari siamo quello che lasciamo dietro di noi è importante desde il anno 2006 non ho ho fatto una decisione in la qual salga beneficiato io a titolo personal sempre penso nel colectivo sempre sempre penso nel colectivo sempre penso in la squadra è lo più importante e sobre tutto non mi approfitto nunca mai di mis amici sempre mi gusta dar molto più di lo che recibes a veces non è così desafortunatamente però mi gusta essere così di questa maniera dal 2006 penso di non aver fatto niente per il mio esclusivo interesse personale penso sempre alla collettività penso sempre alla squadra penso che si riceve cioè bisogna sempre dare di più di quello che si riceve questa è un po' la mia filosofia di vita allora hai sfiorato un sacco di temi e io cerco di provare a cucirne due ma ne avevo già in testa cinque perché da uomo che cerca di organizzare le proprie giornate nel libro trovavo la tua ricerca dell'ordine della precisione quando racconti dei bagagli che vengono disfatti dagli scerpa prima e quindi tutta l'organizzazione che avevate pensato per settimane dovete rifarla la domanda che ti faccio è andare in montagna andare lì ma come andare anche dietro la montagna di casa secondo me credo che su certe cose i punti di contatto siano tanti prevede grande organizzazione quindi voi passate i mesi estivi a organizzare ogni dettaglio e a cercare di prevedere tutte le difficoltà quanto riuscite ad avvicinarvi alle difficoltà visto che poi alla fine la montagna ti sorprende sempre la organizazione è fondamentale è fondamentale è la base di tutto la base di tutto è la empatia e il respeto e poi viene la organizazione prima il respeto empatia e poi la organizazione tienes che tener tutto previsto di antemano arriviamo a un campo base e non hai combustibile sufficiente e non hai previsto i imprevisti e non hai un futuro quindi è fondamentale tenere tutto preparato evidentemente ti tocca giocare e metterti in un terreno desconocido molte volte allora l'organizzazione è fondamentale è la base prima viene l'empatia poi il rispetto ma poi senz'altro l'organizzazione tutto deve essere previsto in anticipo compresi gli imprevisti perché se non prevedi gli imprevisti sei fregato in questa fotografia qui acaba la corda fissa un primo bivaco a 6200 metros 4 para 5 de enero un secondo bivaco 6.950 metros come veis aquí veis la descrizione perfecta e desde 6.000 metros tutto il terreno senza corda fissa era un gran diamante gigante che brillava tantissimo mucha nieve in la parte baja però questa montagna come veis il viento come sobrava tutto tutto era chelto tutto era hielo quindi il compromesso era molto molto la organizazione teniamo organizazione però alli passi a la improvizzazione passi a una improvizzazione lavorata di antemano lavorata di antemano la improvizzazione con la suerte è una ruletta rusa la improvizzazione con la suerte lavorata puoi puoi arrivare a sopravvivere allora qui ho mostrato i due bivacchi il primo il 4 e il 5 gennaio a 6.200 metri e il secondo bivacco a 6.950 metri tutto senza corda fissa e se era praticamente ghiaccio sembrava di avanzare su una specie di diamante brillante l'improvvisazione per quanto riguarda il concetto di improvvisazione se l'improvvisazione è lavorata in anticipo in un certo senso non è più come una roulette russa se invece ti aspetta cioè devi improvvisare e pensare alla fortuna ciao è finita giusto più o meno in qualche modo mi collego a quello che diceva lui però su un piano di preparazione tua cioè in questi vent'anni di esperienza di alta montagna e sempre più nel freddo anche in Antartide le esplorazioni che hai fatto come come hai come hai preparato te stesso penso che è l'evoluzione di Aless che oggi qui parlando non è il Aless di hace due settemane l'evoluzione in un bambino nel monte dopo 7 milimetri dopo 2001 2002 hace 20 anni l'evoluzione facendo le prime expediazioni dopo passi per l'alfile l'imposibile lavorati lavorati dentro del equipo di Durne passavano e desde l'anno 2010-11 expediciones invernales però insisto vamos a expediciones invernales per la inquietud l'Ales che è inquieto che vuole sapere come si attua all'arriva non tiene nada che ver escalar in invierno è molto più merosso molto più comprometido molto più lavoroso non voglio cagliare che si no mi perdi mucho perché stai mirando perdone scusa insomma lui parla della sua evoluzione hai detto un sacco di cifre 2001 2011 20 anni fa la prima spedizione 20 anni fa a 7000 metri ok giusto poi dal 2011 spedizioni invernali perché queste spedizioni invernali per l'inquietudine l'inquietudine perché scalare d'inverno è più bello è più laborioso è più exigente te exige tu mejor version si esige da te la tua migliore versione non pasa a vosotros e a vosotras un día che estamos excepzionalmente bien o estamos excepzionalmente acertados in nuestro día a día en la alta quota tenemos que estar allí así desde que pones un piedi fuera del campo base juegas con un gioco muy peligroso que es con fuego y te puedes quemar y te puedes matar pero cuando aflora esa mejor versión de Alex de verdad creerme no antes lo he dicho en negocio de Ferrino nunca jamás hemos dejado de creer en nosotros nunca jamás he dejado de creer en mí nunca hemos perdido la esperanza Allora a tutti capiterá no quel giorno in cui uno sta eccezionalmente bene si sente bene fa le cose bene beh quando uno scala a quei livelli deve questo giorno deve essere tutti i giorni uno deve essere sempre nella propria forma migliore da quando mette un piede fuori dal campo base quindi la miglior versione di Alex deve partire da quel momento lì e cosa deve fare Alex deve credere in se stesso e credere in coloro che stanno con lui non smettere nemmeno un secondo come dire insomma sono obiettivi veramente di ma volevo chiederti grazie è organizzato è organizzato è organizzato va bene che non dobbiamo far sciogliere il ghiaccio giusto in una spedizione invernale non esiste l'acqua è tutto ghiaccio tutto il 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 è in questo punto per esempio qui a 6.950 metri 40 minuti per fondire un litro di acqua 40 minuti e qui sotto media ora a 6.000 metri a 6.690 metri ci vogliono 40 minuti per fondire un litro d' acqua e sotto metri ora ma o meno metri ora sì sentimi per esempio il tempo è così un anno fa nell'inverno un anno fa tutta la giornata è così solo 4-5 giorni di sol tutta la giornata è così nel secondo tentativo che avete fatto tentativa sempre così grazie che tenemos a ferrino la mellor tenda di montagna se non era una locura tutta la giornata è così tutta la giornata durante due mesi in neve in neve in vento 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 come scegli i tuoi compagni io non sono un buon leader non lo sono io penso che sono abbastanza buon coach abbastanza buon entrenatore che sa una sonrisa nel momento più difficile sa ponere a todo l'equipo con il mismo grado di compromiso so come se consigue enseñando tus debilidades y tus bondades y tu fortaleza entonces cuando estoy mal no tratar de ocultar mi debilidad e cuando me encuentro bien la mochila más pesada es la mía cuando hay que escalar el siguiente largo más difícil ahí que vales así se consigue una buena escuadra pero una vez más yo no soy un buen líder tenemos el ejemplo de la gestión del Nanga Parva del año 2016 de Daniel Enardi con Tamara y Daniel estaba completamente presionado y yo no supe liderar esa situación pero sí que me considero un buen entrenador dove ci siamo trovati, scusate non sono un'esperta di alpinismo, ci siamo trovati sotto molta pressione e io mi sono reso conto che in quel momento non sapevo gestire la situazione, perché non sono un leader, però so dove sta il mio pregio e cioè nell'essere un buon allenatore. Infatti prima quando ti parlavo dell'organizzazione, poi lei ha sfiorato esattamente il tema della squadra, perché nel libro è proprio accenni a un passaggio che mi poneva esattamente questa domanda, cioè che quando sali tu puoi stare zitto tutto un giorno, io dicevo è una squadra di nove persone che sta salendo, è complicato se sono il responsabile non dare un ordine, un'indicazione, una qualsiasi cosa e quindi questo silenzio mi stupiva molto, adesso l'hai già in qualche maniera spiegato. Mentre invece, prima hai citato Simone, Simone Moro, quanto adesso in questa occasione lui torna indietro perché ha un problema fisico, è debilitato e quindi succede quello che succede. Invece quanto quando è successo ti ha riportato alla volta precedente, quando lui comunque decide di tornare indietro prima di voi, in quel caso per scelta, cioè la famosa, quando tu prima hai detto lui è uno stratega, lui guarda la montagna e capisce con netto anticipo qual è la scelta migliore, questo mi interessava, cioè cosa hai provato quando lui è andato? L'ac üzere la scelta migliore, l'ac�isitt? non si lo diciamo, la mejor elezione è, ante la duda, la più segura sempre tornare è ben facile questo anno se tengo che comparare, lo ho detto antes anche nel negozio inferrino se compariamo questo Ataque a Cumbre con il Langa Parvat il Langa Parvat è un gioco di niños, questo anno abbiamo arriesgato molto, molto, molto se potrebbe toccare un botone, ir per l'attacco nel tempo non abbia salito per la Cumbre, arriesgamos molto, molto, molto non hai acto più egoista che il che c'è dietro di questa ascension arriesgando tanto nostri vidi para che? Allì non hai niente per applaudirte, o che ti va a dare una Coca-Cola o non sei, non hai la montagna se ve ugual di bonita di arriba para abajo che di abajo para arriba bajo il mio punto di vista la unica differenza è che subire fino ad arriba ti costa un poco più è vero se pagagoniamo questa ascesa al al Langa Parma con quelle che abbiamo fatto dopo con il Manaslu con il Manaslu allora il Manaslu cioè il la Naga Parma come che diavolo si chiama è un gioco da bambini un gioco da bambini quello lì se potessi schiacciare un bottone e tornare indietro forse non l'avrei fatto questa scalata però a quel punto è che era un gesto praticamente egoista perché abbiamo rischiato la vita per arrivare lì la montagna era bella però andarci sopra è un'altra storia le condizioni creerme erano molto 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 in perdone a ver in questo punto che vi mostro ora quando siamo qui 6.950 metri in questo momento sono le 5 di la tarda meno di 5 ore più tardi 11 di la notte 11 meno quarto e io sono il primo a partir fuori a ponermi le crampone in questo momento oigo per il walkie talkie Neko Simone Sonan e Furba nel campo base parlano e stanno sugetando la tenda il Snowbone 3 il Snowbone 2 a 4.900 metri e noi qui a 50 gradi bajo cero Collado Norte il vento forte forte sopra tantissimo era una locura e io cada metro cada passo che dava dico a donde vamos infatti io credo che abbiano capito tutti perché ha parlato mezzo in italiano è proprio nelle primissime pagine secondo me la cosa è molto del cuore perché la parte forse emotivamente quantomeno quella che ha colpito di più me perché nel leggere il racconto del ritorno della grande fatica sento un uomo che ha decidi tu se un millimetro un centimetro o quant'altro dalla morte cioè che senti forse mai come in questa occasione che sei arrivato al tuo limite cioè hai una fatica hai compiuto una fatica talmente estrema che l'atto della discesa è sei al limite nella discesa che per noi per me per me sembrerebbe la cosa più semplice ovviamente non lo è soprattutto in quelle condizioni cosa ti rimane di quel di quel limite perché quello è un limite che forse non avevi mai mai ispezionato mai verificato il limite è ben facile saberlo però sono molti anni nel inverno desde il 2010 2011 in expediciones invernali quindi io sapeva che questo anno abbiamo arrivato il primo bivac il secondo bivaco qui sono 1950 un pc di tizio di tizio in beta da una intuizione che è che che va a fare ? è l'anno molto 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 quando estamos in questo che vedete ? è una delle delle foto di l'ultro questo più alto, sono più di 50 gradi bajo cero, la cantimplora di agua congelata, la altra anche, e la altra che va dentro anche, tutto, tutto, tutto congelato. Nunca, nunca, nunca ci ha passato questo. Qui non si sente felicità, qui non si sente absolutamente nada ma che miedo controllato, nessuna emozione più allà della supervivencia. Nessuna emozione, nessun sentimento, nulla, nulla più allà che sobrevivire e sobrevivire e sobrevivire. Questo è il 40% della ejecuzione. Il 60% della ejecuzione alpinistica la llevas a cabo quando descendi al campo base. Allora, in questa occasione abbiamo rischiato molto, abbiamo iniziato la salita in vetta alle 11 di sera dopo il primo e il secondo bivacco e erano 50 gradi sotto zero, l'acqua era completamente congelata, non era mai successa una cosa del genere. In quei momenti non senti felicità, hai solo una paura controllata, non provi nemmeno emozioni, salvo quella di sopravvivere. Esa era la mia obsesione. Llegamos hasta qui frutto di un errore, il errore di che i sei sei compagniere nepali iban utilizzando oxigeno artificial. Cada ora, ora e mezza, loro portavano in su mochila due bottiglie di oxigeno, e per il freddo, il regolatore si congelava, per il hielo, e pensare, in questa pendiente di hielo, qui, talla una repisa, ponte, quitate la mochila, quitate il guante, saca la bottiglia di oxigeno, desenroscala, golpiala, a veces que estaba soldada con el hielo, vuelve a roscar. Quando eso sucedía, io tratava di pelear e pelear e pelear per non quedarme atrás. Illos van con oxigeno artificial, tiñen molta máis energia, molta máis velocità che io, e mi obsesione era non quedarme il ultimo, non quedarme il ultimo. e frutto di un errore, frutto della suerte trabajata, perché suerte trabajata? Ya che llevamos desde l'anno 2010-2011 intentando montañas di 8000 metri in invierno. Alguna vez tendríamos che tener suerte, no? Allora, l'errore, allora, io avevo sei compagni nepalesi quali facevano uso di ossigeno artificiale, avevano questo ossigeno negli zaini, per cui su questa parete loro cercavano, appunto, si fermavano, dovevano togliere la bottiglietta dell'ossigeno dallo zaino, svitare il tappo, rompere il ghiaccio, fare tutta questa operazione, però poi alla fine avevano molte più energie di me usando l'ossigeno e io, la mia paura e comunque la mia preoccupazione era non rimanere l'ultimo e poi, niente, però avevamo, insomma, provato già nel 2010-2011 e quindi a quel punto sempre in inverno, sì. Una delle mie obsessioni era anche il descenso. Da questo punto, qui, 7850, non avevano niente di energia, niente, 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 il final meno malo per me hubiera sido che la mia vita si è finita. Sufrì tanto, non sentia del tobillo per abajo niente del piede, le mani, le oregano, la nariz, le oregano, mi dolivano, tutto il corpo, avevano tanto dolor, tanto sufrimiento, non avevano niente più energie. Íbamo con la climatazione avevo una sofferenza tremenda e non avevo più energia. In quel momento ho pensato che la mia vita avrebbe potuto finire lì e forse sarebbe stata la sorte migliore. Tanto stavo soffrendo. La sofferenza è un'arte e come se l'avessi messo a punto anno dopo anno, anno dopo anno. La cosa che mi ha colpito molto del libro è che pensando ad altri racconti di salite invernali pensa ai polacchi, no? Cioè sempre questa grande potenza e invece nel tuo libro è la debolezza che viene fuori molto e quindi alla fine non lo so. C'è stato un attimo in cui diciamo ma qui questo Manaslu sembra il castello di Elsinore e lui Amleto che in qualche modo lotta poi nessuna nessuna spada avvelenata ti colpisce però comunque sei sei in una costante lotta per la vita tant'è che uno dice ma perché? Perché? Perché stanno lì le montagne stanno lì come diceva George Mallory le montagne stanno lì le montagne stanno lì e ti stanno esperando e io una volta non sono una persona filosofica però mi sento comodo mi sento mi sento molto felice di essere oggi in Torino però magari se sono una settimana e sono cansato di essere in Torino mi sento in la montagna quindi in la montagna non tengo esa sensazione e mi canso mi sento a gusto mi sento útil eso è importante lo suolo diciamo una volta penso che ci sono tre importanti in la vita di una persona uno quando nascemos dos quando nos damos cuenta para che e tres la morte la morte è parte della vita e abbiamo che saber che un dia non siamo a marchare da qui e non possiamo sempre pensando se faccio questo se faccio questo se faccio se faccio non 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 io credo che le deportisti extremi in determinati momenti abbiamo che essere valienti a la hora di tomare un caminio di una decisione di che la nazione la napurna che può causare perché la napurna è più pericoloso hai che tomar decisiones con determinazione e con valentia ma perché mi chiedi perché 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 le montagne sono lì ti aspettano cioè io non sono un filosofo sono felice di essere qua a Torino ma se ci stessi già una settimana poi mi stufo devo ripartire io mi sento a mio agio quando sono in montagna mi sento praticamente utile secondo me ci sono tre giorni importanti nella vita di un uomo il giorno in cui nasce il giorno in cui capisce perché perché è lì che cosa ci fa in questa vita e poi il giorno in cui muore anche perché non non ci possiamo raccontare le storie quel giorno lì arriva e quindi bisognerà affrontarlo in qualche modo e quando si prendono si fa del dello sport estremo come faccio io si affronta questo pensiero forse molto più spesso bisogna essere coraggiosi perché ci si ritrova a prendere delle decisioni che possono decidere dalla nostra vita quanto c'è nella tua vita nel tuo andare a cercare il pericolo perché comunque sia è cercare il pericolo uno può stare comodo sul divano soffre un po' meno ma quanto c'è della tua famiglia numerosa cioè tu sei cresciuto in una famiglia molto numerosa hai esatto eravate un po' tanti la battuta che verrebbe è uno va in montagna così almeno finalmente sta da solo però quanto di una famiglia così numerosa cosa ti porti quando sei invece tutto solo in una tenda a 35 gradi sotto zero della tua famiglia quindi del paese dove torni e che quando ci metti piedi stai già preparando l'uscita successiva in general in la vita io penso che nos dedicamos a destruir penso che oggi è il giorno che non siamo capati di costruire un mondo giusto quindi tenendo eso come partida mi gusta la diversità la diversità è la riqueza del planeta che qui nel italiano se parla nel Piamonte di una maniera in la zona dei Dolomiti di un altro e in Nápoles di un'altra maniera la diversità della bellezza che tiene Italia che tiene España che tiene il Paese Vasco ecc 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 me apasiona la diversità lo stesso lo stesso può essere rodato di mucha gente e sé estar solo perfectamente è lo bonito los contrastes eso è la magia della vita e di dei luoghi se tutti seriamos uguali la vita no tendria sentido no tendria gracia no entonces a mi en la montagna me gusta estar solo me gusta estar unido tampoco sé estar solo ha ha sido determinante en mi vida ser el más pequeño de una gran familia de una gran familia muy humilde que no me ha faltado quizás de nada pero quizás en determinados momentos ha aflorado la necesidad y esa necesidad ha hecho que aflore esa inquietud esa inquietud que llevas dentro la que cuando hay esa escasez cuando hay necesidad haces este tipo de cosas creo que ha sido clave a inicio dalla fine crendo que me había mucho ayudado a ser l'ultimo de una familia muy numerosa una familia humilde en que a veces hemos experimentado la necesidad y la necesidad la mancanza de algo crea dentro una inquietud en la vida ci dedichiamo a costruire se possiamo un mundo migliore per me una delle cose guida della mia vita è la ricerca della diversità nel senso che mi piace la diversità mi piace tutte le cose diverse che ci sono nel pianeta l'Italia la Spagna i Paesi baschi tutta la diversità il contrasto che c'è e anche il contrasto che provo sia a stare in mezzo a tanta gente mi piace stare in mezzo alla gente ma poi mi piace anche stare da solo e mi piace questo passaggio questo contrasto tra queste due situazioni completamente diverse un in effetto inmediato arriesgando poquito non salgas de tu casa il invierno non è tutto l'oposto a la società in la quale stiamo vivendo oggi che solo vive e valora base a los éxitos se non non un ganador non 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 il ganador è ese che sigue tenendo la pasione e in momenti in che toda la gente la tienes in contra todo il mondo habla de ti e sus intentos sigo tenendo esa pasione sigo tenendo esa motivazione para seguir intentando il manaslu ese è il vero ganador non un buon alpinista deve essere anche una buona persona scalare 8000 metri d'inverno richiede e richiede molta molta pazienza la pazienza è fondamentale se non hai pazienza per fare questo evita di uscire di casa la stessa cosa non uscire di casa se vuoi successo sicuro un successo facile perché direi che un alpinista in questo caso è il contrario di come si vive oggi oggi si ricerca si dà molto valore al successo alla fama a essere vincitori magari anche in modo facile ma a me quello che interessa non è vincere perché sono arrivato in cima al manaslu a me quello che interessa è continuare ad avere questa passione continuare ad avere questa enorme motivazione che mi fa provare a tornare lì continuamente sono interessato in essere un campione però sì sto interessato in essere un sub campione prefero essere la fila sempre 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 io voglio essere un campione non voglio essere un campione voglio essere forse un sottocampione cioè un campione di seconda di seconda e che perde sempre la Champions League la finale della Champions League quello che perde sempre la finale del campionato qui a Torino sei ben messo perché c'è il toro che è una cosa simile un altro aspetto coinvolgente del libro sono queste tue puntate nel portare aiuti nel in certi luoghi con con del non so gli impianti fotovoltaici solari questo e quello cioè come com'è che poi ti trovi in quelle situazioni cioè come le costruisci come arrivano come ti arrivano tutto lo che c'è la vita ora mi gusta apportarlo para los demás tutto lo che ho apprendito questo anno questo anno oggi è 15 15 di novembre e desde marzo a oggi hanno sido 60 60 62 serata totalmente gratuita mi gusta molto tengo tre gruppi di gente vecchia 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 se dice e voi 80 90 anni e voi e parlo le saco una sonrisa dopo con gente che tiene problema di exclusione in la società hemos organizato il invito di altre installazioni fotovoltaiche per il NEPA la ADESO in l'Africa subsahariana abbiamo montato con una nostra fondazione io ho stato 4 viaggi abbiamo montato 70 installazioni 70 installazioni fotovoltaiche in l'Africa subsahariana Sierra Leone Malawi Mali Tanzania Mauritania incredibile il lavoro che si ha fatto e quando tu aportas eso a la società aportas conocimento sabiduría aportas futuro ricordo due anni fa en Sierra Leona me encontré un grupo de 4 5 ragazzi giovani es ragazzi vemos aquí como montamos la instalazione fotovoltaica es ragazzi en Sierra Leona venían di essere violati per unos uomini van al cuartel della polizia e la polizia volve a violare a esas niñas hay lugares del planeta donde no es futuro senza futuro no tienen oportunidad donde los bambinos de 6 7 8 9 anos son abandonados por su papa y su mamma porque no tienen posibilità por mantener y cuando tu has viajato por más de 70 países has visto tanta miseria tanta destrucción y con el confort la seguridad de la que vivimos aquí tutta la energía y tutto lo que llevo dentro me gusta aportarlo en los demás es tan hermoso estas fotografías son del primer Manaslu la tentativa de nuestra primer Manaslu fue la cuota 7000 m aquí veis la frustración de mis compañeros porque no hemos arribado en beta pero este es el verdadero éxito de ese primer Manaslu montar dos instalaciones fotovoltaicas ambas de 4 kilovatios a mil kilómetros de Can Mandú con la máquina 20 horas los bambinos este es el verdadero éxito del Manaslu ayudar a los demás desinteresadamente yo me siento mucho más orgulloso de estas acciones que de mi escalada mi arrampicar en la falacia o en la alta cuota es mucho más importante esto ser persona e dopo sono alpinista chiediamo chiediamo se volete fare delle domande per una cosa subito io sono molto contento grazie Giovanna a Solferino è un regalo velo per la Natale ora sinceramente sono molto orgulloso e agradecimiento a todo tu squadra Giovanna e a todo Solferino per confiar a nostro secondo libro e oggi mangiando una pasta ha detto Giovanna a Anna il prossimo anno è la porna grazie Giovanna io faccio il valletto se qualcuno ha una domanda vado gli porto il microfono mentre chiedo loro chiedo a te una cosa perché mi incuriosisce da giornalista passi tre mesi a una temperatura non proprio gradevole e fai un po' di fatica tu la semplifichi però è un po' complesso riuscire a tornare cioè tutto quello che racconti te lo appunti te lo ricordi tutto cioè taglio che sono veramente molto precisi cioè altre cose va bene faccio questo mestiere quindi scrivere però molti elementi sono proprio della serie torni la sera in tenda e mentre non hai niente da fare o mentre aspetti che ci sia la condizione meteo appunti tutto io sono dentro normalmente mi gusta la snowboard 3 o snowboard 2 sono dentro io non dormo sono così quando dormo così non tumbato però così qui tutto mi equipo qui per mangiare la comida pegato il gas tutto tutto tienes che ser muy ordenato muy meticuloso mi testa sempre sta pensando oggi sono qui però io sto pensando cosas della napurna sempre sempre nunca estoy ready nunca estoy relazato non intenzione però si pensando e pensando e pensando para sobrevivir en un entorno tan difícil tu tienes que imaginarte posibles situaciones e solo así llegas a una interseczione hago sinistra directo o la destra no tienes que saber adelantarte a cada situación como jocara las cartas e saber la carta del del compañero es importantísimo entonces el orden el orden el tener tutto tutto ordenado el tener tutto en la mente el saber en cada momento io sono a 6000 metro porto wakitaki sonam how many liters of kerosene we save today no cuántos litros tenemos cuánto hemos ahorrado porque estamos por arriba no 40 litros me cago a veces estado calentándonos con el keroseno tú tienes que tener controlado tutto 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 e tienes que saber también delegar es importante cada persona tiene una función dentro del campo de la expedición el libro era tutto en testa tutto qua dentro